In questo numero di Agri-Food Magazine Prezzi alle stelle per la pasta Sale a 120 miliardi il valore del falso made in Italy Stop alla vendita di olio d'oliva sfuso Biogas Una soluzione sostenibile per l'agricoltura italiana Prezzi alle stelle per la pasta Nel mese di marzo è stato registrato un aumento del 17,5% rispetto all'anno precedente in un contesto caratterizzato dalla riduzione dei costi della materia prima e dalle dinamiche variabili dei prezzi dell'energia e degli altri fattori di produzione Il ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso ha dato mandato al garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di convocare la commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica del prezzo Si tratta della prima riunione della commissione creata con il decreto trasparenza Il nuovo organismo di monitoraggio è composto, tra gli altri, da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, dalle autorità competenti e dalle associazioni di categoria e dei consumatori Ad aprile, a Soutenti, aveva presentato una segnalazione al ministero e a Mr. Prezzi su alcune anomalie nell'andamento dei prezzi al dettaglio della pasta in Italia che solo in 12 province risultavano inferiori ai 2 euro al chilo Più nel dettaglio, a marzo, il record del caro pasta aspetta a Dancona seguita da Modena, Cagliari, Bologna e Genova Sale a 120 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo anche sulla spinta dell'alleanza tra Russia e USA che si classificano rispettivamente come il paese dove le false produzioni tricolore sono cresciute di più nell'ultimo anno e quello in cui si registrano i più elevati fatturati è l'allarme lanciato da Coldiretti in occasione di TuttoFood a Milano dove è stata inaugurata la prima esposizione della top 10 del Made in Italy tarocco a tavola La vera novità del falso Made in Italy è rappresentata oggi dalla Russia con la guerra in Ucraina e l'embargo agli scambi commerciali che ha vietato l'esportazione a Mosca di un'importante lista di prodotti agroalimentari come frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, spiega la Coldiretti si è diffusa nel paese una fiorente produzione di imitazioni del Made in Italy a tavola che hanno sostituito le esportazioni tricolori Il risultato, denuncia la Coldiretti, è che in molti territori sono sorte fabbriche specializzate nella produzione di imitazioni dei formaggi e salumi italiani per sostituire quelli originali L'industria del falso Made in Italy a tavola conclude Coldiretti è diventato un problema planetario con il risultato che per colpa del cosiddetto Italian Sounding nel mondo oltre due prodotti agroalimentari tricolori su tre sono falsi senza alcun legame produttivo ed occupazionale con il nostro paese Niente vendita di olio d'oliva sfuso la Commissione europea ha infatti ritirato la proposta di modifica delle attuali norme di commercializzazione una decisione che è stata accolta positivamente da Agri Insieme che aveva sottolineato la pericolosità dell'apertura alla vendita di olio sfuso soprattutto per il rischio di peggioramento della qualità del prodotto e la difficoltà a eseguire i controlli necessari per evitare frodi e garantire la sicurezza del consumatore In caso di bottiglie aperte e riutilizzabili spiega il coordinamento delle associazioni di categoria agricole non ci sarebbe alcuna garanzia né della qualità né del rispetto delle norme igieniche La vendita di olio sfuso comporterebbe sicuramente una conservazione inadeguata per errata esposizione alla luce e al calore per l'ossidazione e la contaminazione da batteri Inoltre per Agri Insieme la vendita di olio sfuso avrebbe potuto vanificare gli sforzi compiuti dagli operatori e dagli stati membri per garantire il rispetto delle norme di commercializzazione Nel corso degli anni gli operatori si sono infatti impegnati affinché la qualità del prodotto immesso sul mercato interno ed esportato fosse ottimale sensibilizzando i consumatori anche sui valori nutrizionali e aumentandone la riconoscibilità L'agricoltura ha un ruolo determinante nella transizione energetica Per il comparto infatti prendere parte al cambiamento significa non solo ridurre il proprio impatto sul clima ma anche procurarsi gli strumenti con cui rendersi più resiliente e competitivo di fronte alle sfide attuali Un ruolo di primo piano nel processo di transizione ecologica è ricoperto dalla filiera del biogas che può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra dovute alle attività del settore agroalimentare e alla decarbonizzazione del settore energetico nazionale e che negli ultimi anni è stata anche importante laboratorio di innovazione introducendo misure in grado di produrre di più usando meno risorse riducendo gli sprechi garantendo cibo ed energia rinnovabile e ripristinando la fertilità dei suoli e la biodiversità Siamo davanti a un'altra grande opportunità di sviluppo per l'inserimento della digestione anaerobica che serve a produrre biogas nelle aziende agricole Biogas che poi raffinato può essere compresso e messo nella rete del gas naturale e diventare quindi biometano e contribuire ad aumentare la percentuale di gas green all'interno della nostra rete con due obiettivi da una parte rendere il nostro paese più indipendente e quindi più forte nel mix energetico di produzione nazionale e dall'altra non derogare rispetto quel disegno di transizione ecologica che è stato intrapreso e che dobbiamo intraprendere quindi noi siamo qua anche per raccontare le nostre esperienze perché pensiamo che il biogas in Italia abbia rappresentato veramente un'eccellenza e quindi le nostre aziende rappresentano un laboratorio a cielo aperto di innovazione che non è legata solo alla parte energetica ma è legata a tutta una serie di pratiche agroecologiche che contribuiscono ad avere un approccio diverso rispetto il terreno grazie a tutti